Primo consiglio, vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo. Io non voglio morire, io sono ancora giovane. Secondo consiglio, non lasciarti intralciare da nulla. Stato a sentire ostacoli della vita, d'ora in poi nulla intralcerà Homer Simpson. Fai i tuoi compiti, non fare troppi compiti, impara a parlare, tu, noi, amore. Io ci sto. Tu va avanti, io ti sono solo di peso. Cos'è sto chiasso? E' il rumore di un rampante al lavoro, Marge. Vedi, ho fissato un gancio per le chiavi, così saprai sempre dove si trovano. Oh, che amore. Ero stanca di mettere le mie chiavi in quella ciotola come un primitivo. Finalmente ho imbrigliato l'immensa forza del gancio. Bene, ora vado al lavoro.